il vice sindaco e assessore alla crescita culturale di Roma capitale Luca Bergamo grazie di essere con noi insomma in queste giornate così un po' di un pochino di festa insomma tutto sommato ma insomma sempre di lavoro almeno noi siamo al lavoro e evidentemente anche anche lei a proposito della polemica tra la sindaca e il ministro Franceschini ma intanto non è una polemica è un confronto molto serio la città attraverso la voce della sindaca ho detto più volte al ministro Franceschini che la sua idea di trasformare il centro della città in un parco archeologico di fatto riservato ai turisti non andava bene lui continua a dire che perché non va bene va bene agli uffici come va bene a Brera va bene a Pontei la differenza che ammesso che va bene agli uffici a Brera e a Pontei quindi sono Pontei e fuori dall'abito civile gli uffici e Brera sono dei musei che stiamo parlando di un intervento storico della città allora noi siamo dell'opinione che a Roma serva un governo del patrimonio culturale unitario tra lo Stato e la città su tutto il territorio il governo in modo unilaterale senza cercare un confronto anzi evitando un confronto con il comune ha deciso di organizzare il suo sistema di gestione in aggiunta è una cosa un po' difficile da spiegare tecnicamente ma insomma fino a ieri l'organismo che si chiamava la sovraintendenza speciale logica di Roma che era la responsabilità per il ministero di gestire il Colosseo poi fuori in una grande area che coincide con il centro di Roma subieva interamente delle risorse che produceva attraverso la sovraintendenza che automaticamente restavano la sovraintendenza quindi nella misura dell'80% quindi l'80% dei ricavi delle attività che erano di vendita dei biglietti piuttosto che restavano sul Roma sovraintendenza speciale oggi non è più così indipendentemente da quello che dice il ministero perché nel decreto che lui ha scritto c'è scritto e il 30% dei ricavi andranno per gestire il resto del territorio quindi qui nel parco archeologico e poi il parco archeologico sta finitando il ministero quindi è il ministero che decide come, quanto e perché gli date i soldi quindi sembra quasi un esproprio nella gestione di tutta un'area così importante è così? Cioè questa è l'impressione che avete? non è un'impressione un po' più complicata di così perché lo Stato fa è chiaro che dobbiamo cercare di far capire però la verità è che non si decide su una materia che è strategica per lo sviluppo di una città senza nessun accordo con chi ha la responsabilità di governarla per mandato dei cittadini nel momento in cui il governo, il ministro in particolare, non il governo ha deciso che su una materia così dedicata procedeva senza confrontarsi con la città non restava a noi altro via che ricorrere al tribunale amministrativo questo è quello che è successo speriamo che in questo modo anche di aprire una discussione su funzione che deve avere il patrimonio culturale a Roma e non solo se deve essere, come utilizzato solo oggi, solo uno strumento di attrazione turistica che poi crea quegli intoppi, quegli affollamenti che hanno distrutto il centro di Venezia si mangiano al centro di Venezia, si mangiano al centro di Venezia, si mangiano al centro di Roma oppure bisogna capire come l'intero patrimonio archeologico della città unica come Roma che è diffuso ovunque, viene utilizzato da un lato per promuovere il turismo sostenibile dall'altro però sono studiute delle relazioni tra i cittadini di una vita economica ad alto valore aggiunto quindi i contesti che non sono solamente legati al turismo sono legati alla ricerca indicati alla sperimentazione tecnologica insomma una visione profondamente diversa della funzione del patrimonio culturale Rigo, vediamo una cosa perché lei l'ha detto all'inizio insomma gestire il patrimonio archeologico di Roma come si gestisce Pompei non è possibile perché comunque Pompei è un sito archeologico e basta e Roma è una città viva non c'è alcun dubbio questo però sembra non essere recidito quindi secondo il suo punto di vista come si fanno convivere le due esigenze quelle di valorizzare una zona di così alto rilievo e pregio mondiale inutile ricordarlo è una città che comunque deve vivere, produrre e continuare a espandersi intanto come abbiamo peraltro già più volte suggerito anche sulla stessa area di cui si parla oggi ci sono due modi diversi diciamo gli oggetti che producono biglietteria a trattività turistica per quei soldi lì sono il Colosseo e il Palatino è un po' la domus area il meccanismo che porta a chiudere e recintare tutta l'area produce un fenomeno per cui le persone la città non può vivere attraverso il parco archeologico immaginiamo viceversa ed è quello che proponiamo noi una grande area la circolazione ridotta che va dal Circo Massimo fino a Monti e dal Colosseo fino al Campidoglio diventa in cui ci sono dei luoghi ovviamente per cui accesso è con biglietto il Colosseo ma che diventa integrata con funzioni della vita civile anche biblioteche, librerie, servizi alle persone si riconquista il centro storico non che sta diventando semplicemente un luogo per i turisti o per persone molto agiate ha una vita molto più ricca che consente anche a ciascuno di noi di incontrarsi con gli altri intorno alla bellezza sono due modelli diversi per interpretare la funzione che ha il patrimonio culturale nella vita uno la vede come una specie di benzina per far camminare il turismo l'altro ne riconosce anche questo aspetto ma ci mette molto molto di più intorno cosa che peraltro è ormai riconosciuta da tutte le convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e che ovviamente invece vengono sistematicamente contraddette da questi problemi comunque è importante valorizzare e far arrivare più gente a Roma no? valorizzare il patrimonio e far arrivare più gente ma se la più gente arriva come arriva oggi che sta un giorno e mezzo ed è tutto a cacca il prodotto è quello che noi non riusciamo a vivere a città le persone peraltro che vengono qui hanno un'esperienza superficiale e insoddisfacente quindi nel lungo periodo probabilmente non dà noi invece siamo capaci di far venire più persone distribuite più nel tempo meglio nel territorio e con una presenza anche più lenta da parte loro perché è possibile probabilmente noi ne troviamo ma certamente noi come città ne troviamo maggior beneficio e loro stessi se ne vanno con la percezione della città che non è semplicemente aver visitato una Disney che è andata fatta di musei antichi ma aver visitato un posto veramente unico nel mondo però dobbiamo essere convinti di questa visita se continuiamo a far finita che non sia così senta per salutarla e ringraziarla perché è stata molto disponibile ma insomma questo ulteriore scontro proprio di filosofia fa parte di una specie di guerra tra governo e amministrazione capitolina oppure diciamo così è semplicemente che si hanno idee diverse e ci si confronta sulle idee diverse a me piace confrontarmi sulle idee diverse le guerre di regione non sono proprio il mio piatto l'idea qui è profondamente diversa dopodiché so benissimo che l'idea che noi come città stiamo sostenendo difendendo anche con forza è condivisa da persone che hanno opinioni politiche molto diverse dalle nostre e anche viceversa, ci sono persone che hanno opinioni politiche simile alle nostre che hanno un punto di vista diverso ma non c'è dubbio che qui la discussione che è una discussione molto specifica contiene dentro tantissimi elementi che hanno a che fare con il modo in cui noi vediamo il futuro con il ruolo che hanno i governi locali nel decidere il futuro del popolo per cui sono chiamati ad amministrare e nel rapporto col governo centrale ci hanno a che fare con una città fondamentale del nostro paese in particolare di Roma e cioè una presenza sterminata di patrimonio culturale che è un'incredibile ricchezza del paese se il paese riesce ad utilizzarla altrimenti si guarda sempre indietro noi stiamo guardando avanti Ecco, l'ultimissima, l'estate romana ha pubblicato il bando che cosa sarà questa estate romana che parte il 30 giugno e arriva il 30 settembre? Beh, l'estate romana cambia in modo, diciamo, cambia cercando di recuperare ciò che erano i caratteri fondamentali dei suoi origini che sono andati perduti nel corso degli anni nacque per restituire ai cittadini l'uso degli spazi pubblici l'uso della città bisogna ricordarsi che negli anni del 73-78 Roma non era praticabile a causa di grandissime manifestazioni politiche tutti i weekend l'estate romana consentì a ciascuno di noi che all'epoca non c'era di riscoprire il piacere di stare insieme e vivere la città oggi il problema non si pone in quei termini ma si pone viceversa nella vita distribuita cioè non solo nel centro storico della città ma nelle periferie e si pone anche un grandissima difficoltà da parte degli operatori culturali a fare progettazioni in medio periodo perché lo Stato, l'amministrazione capitolina nel passato è intervenuto ogni volta con supporti economici sempre a breve periodo quindi noi abbiamo cambiato molte regole per semplificare tutta la parte tecnica e amministrativa ma soprattutto abbiamo introdotto tre criteri completamente nuovi il primo è che faremo delle graduatorie per il municipio incentivando dunque chi presenta i progetti a presentare i progetti non solo nel centro della città il nostro obiettivo è di avere almeno due progetti per ogni municipio secondo sollecitiamo un progettazione culturale nuova perché non parliamo più solo di attività di spettacolo ma parliamo di attività culturali le attività culturali sono anche passeggiate a riscoperta delle aree verdi piuttosto che incontri e discussioni piuttosto che tantissime forme miste che sono emerse che esistono in città che però in ambito dell'estate romana non consentiva di raccogliere in precedenza e il terzo è che inseriamo la possibilità di presentare progetti reannati quindi per una parte consistente delle risorse che sono un milione e mezzo di contributi per quest'anno un milione di questi vogliamo destinarlo a progetti che si presentano su tre anni e quindi dicono nel corso di tre anni noi intendiamo realizzare queste attività in questi luoghi e poi per il primo anno ci presenta una programmazione dettagliata e alla fine di ciascun anno a seguito di un'ulteriore progettazione dettagliata per l'anno successivo ricevono automaticamente il finanziamento ovviamente se hanno operato bene questi sono cambiamenti molto profondi il cui obiettivo è quello di riconoscere che esiste una progettualità molto ricca all'interno della città che è molto diffusa e uscire da un meccanismo che negli ultimi anni è diventato ostantivo e affatto dell'estate romana in larga parte con tutto però semplicemente un'identificio non senza giustizioni di lei quindi si prosegue con la filosofia un po' no? che era quella dell'ultimo dell'anno primo dell'anno un po' è quello? esattamente certo se no saremmo era per chiarire insomma era chiaramente questo grazie a Luca Bergamo buona giornata grazie di essere stato con noi vice sindaco di Roma